Buongiorno a tutti, oggi è martedì 28 marzo, sono le 10.04 e se avete ascoltato la live di ieri alle 10.15 più o meno su InvestiV avrete visto che avevo dato un target, il target era questo, 15.262, questa mattina abbiamo aperto a 15.261 sbagliato di un tic. Questo è l'algoritmo, questa è la validità dell'algoritmo, per cui andando in violazione di questo massimo nonostante la discesa che ci ha fatto chiudere il settimo t-3, poi abbiamo fatto partire l'ottavo e ragioneremo anche di dove ha chiuso il quarto t-3 inverso, anche perché se andiamo a colorarlo di rosso perché è diventato ribassista, dall'inverso si sale, siamo andati a fare qui un massimo interessante a 27 barre già e successivo l'abbiamo fatto qui. Quindi come di consueto lasciamo qui il nostro allarme quello che avevo già dato appunto ieri come target, era il secondo tra l'altro target, ce n'era uno fra mezzo e vediamo che forza ha questo ottavo t-3, perché? Perché ormai questo settimanale è arrivato al ottavo ciclo giornaliero, siamo già a una durata media, potrebbe essere un ciclo ribassista si potrebbe tornare qui sotto, le medie mobili ci fanno da supporto e appunto non sappiamo se abbiamo già un t-3 inverso di nuovo vincolato a far salire i prezzi, qua, oppure ha semplicemente chiuso il quarto t-3 inverso. Come faremo a sapere in quale delle due situazioni saremo? lo vedremo a breve dai volumi. Ovvio che se semplicemente scendessimo il quarto t-3 inverso sarebbe chiuso qui, viceversa appena inizieremo a chiudere magari appunto questo gap up e a vedere forza di salita potremmo eventualmente valutare un long. Il DAX è in una situazione sempre in cui rispetto anche soltanto alla, anzi togliamo questo, rispetto alla discesa fatta siamo fermi attorno al 61.8 di rimbalzo rispetto alla discesa avuta. Mentre invece come la situazione su MIB è molto simile, anche in questo caso dobbiamo andare a mettere un bel punto di domanda qui, poi toglieremo tutti i punti di domanda precedenti così almeno facciamo un po' di pulizia di tra virgolette incertezza. Qui possiamo serenamente dire che è partito, è iniziato un t-inverso che per ora è rialzista di inverso, ovvero che sta scendendo, da qui è partito il secondo eccetera eccetera e faremo gli stessi identici ragionamenti che abbiamo fatto su DAX uguali. Anche in questo caso il t settimanale iniziato qui non ha trovato ancora la condizione necessaria e sufficiente per chiudere con un t-3, un ciclo giornaliero ribassista e che cosa faremo? Quindi metteremo un allarme qui sotto 26.168 per valutare un eventuale short per la chiusura del ciclo settimanale. Anche in questo caso vi faccio notare un paio di cose. La prima, qui ci siamo fermati a una discesa rispetto ai top fatti dopo tutta questa salita, abbiamo trovato un livello di resistenza al 78.6 dai massimi, dove passa questo livello. Se andiamo a fare la stessa identica cosa che vi ho fatto vedere dall'altra parte, perché ci sono tanti trucchi del mestiere con i fibonacci. In questo caso ci troviamo compressi tra un ritracciamento del 61.8 e un rimbalzo della metà di quello che abbiamo fatto scendendo. La metà è una sorta di baricentro, se rischiamo di perderlo andiamo a scendere e, viste le violazioni che sono state fatte qui, e visto che siamo arrivati a 118 giorni di primo t più 4, segnalo sempre che se da qui riuscisse a partire un mensile e ormai abbiamo tutte le condizioni per farlo partire, se disgraziatamente dovessimo tornare sotto i 24.751, segnatelo 24.751, correremo il rischio della creazione di un vincolo che vincolerebbe tutti i giorni rimanenti fino ai 24 minimi di durata di un t più 2 mensile a scendere, a cercare nuovi minimi ovviamente attorno a quest'area, anche se in realtà come vi dicevo il target di discesa che vi ho dato nel gruppo premium è molto vicino a questo livello che abbiamo già toccato, per cui ho avuto i miei grattacapi. Ma direi che siamo a posto così, anche in questo caso, anche qui mettetevi un allarme sotto questo minimo e ragioniamo di un'operazione piuttosto che l'altra. La precisione dell'algoritmo direi che fatti i 15.261 su un target di 15.262 non si discute. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci!